Ben trovati, ultimo appuntamento settimanale con ex cattedra, anche se qualcuno insomma sosteneva all'inizio stagione che questa sarebbe stata l'annata in cui finalmente saremmo tornati a parlare di calcio lo dobbiamo smentire sostanzialmente alla luce di quello che diciamo grosso modo da una decina di giorni a questa parte si sta verificando da queste parti, capita ma evidentemente c'è chi ha la sfera di cristallo e può azzardarsi in previsioni che sono proiettate a lunga gittata. Da queste parti certo oggi torniamo comunque a parlare di calcio giocato, conviene, conviene assolutamente perché insomma l'ultima brutta pagina, mettiamocela alle spalle quello che è stato, resta e quel gesto resta a chi evidentemente l'ha fatto, proiettiamoci sul campionato, proiettiamoci sul prossimo impegno del Foggia, sulla seconda trasferta consecutiva dei rossoneri che evidentemente sono con il morale a mille dopo la bella vittoria di Catania che è arrivata subito dopo la penalizzazione del meno 4 e che ha rappresentato una bella risposta del gruppo alle ultime contrastanti vicende. Il Foggia adesso è chiamato ancora ulteriormente ad allungare la sua striscia positiva che potrebbe salire a quota 8 a questo punto se evidentemente si farà risultato a campo basso. Dalle parti dei Romagnoli il Foggia ci torna dopo un po' di tempo, meno di 90 km si dividono i due centri, ci sarà anche una buona cornice di pubblico, una partita sentita, ci saranno anche i supporter del Foggia circa 500-491 per la precisione, questo perché ci sono poi le solite limitazioni sulla capienza ma il settore ospite sarà completamente invaso da tifosi del Foggia, ne sarebbero stati molto di più evidentemente, ma ai noi siamo ancora in tempo di Covid e dunque le restrizioni frenano ancora gli spostamenti. Foggia che arriva comunque a questa partita come dicevo sull'onda dell'entusiasmo e con la possibilità di raccogliere un altro risultato positivo, visto che questo campo basso è formazione neopromossa, la squadra molisana guidata da Cudini che era partita anche discretamente direi e che però finora ha evidenziato soprattutto l'aspetto negativo, quello di essere una specie di Groviera prende gol in quantità industriale, il campo basso e il Foggia dovrà cercare di approfittarne perché è vero che poi si dice che questa non sia una squadra chiara a trazione anteriore però poi i numeri ci dicono il contrario perché i gol complessivi della formazione rossolino la mettono e la collocano nei primissimi posti della speciale classifica. Poi c'è un altro dato da non sottovalutare per quanto il Foggia continui a restare come dire con gravi problemi, a rimanere con gravi problemi di formazione perché sono ancora tanti quelli che sono fermi a inbox proprio da quando è emergenza, questa squadra invece ha dato segnali di concretezza anche a campo basso, insomma Zeman non potrà schierare la migliore formazione e chi scenderà in campo però cercherà di gettare il cuore oltre l'ostacolo perché in questo momento è particolarmente importante dare continuità soprattutto ai risultati. Prima di concludere devo rivolgere un grazie doveroso sentito a quei colleghi che mi sono stati particolarmente vicino in questi giorni, ho apprezzato molto quanto hanno fatto. Voglio ringraziare anche però coloro che come dire hanno mostrato vicinanza anche se soltanto un sms, un messaggio senza magari poi apparire pubblicamente ma va bene anche così. Ringrazio ancora una volta chi questo gesto lo ha messo in essere perché non potete immaginare quanto onore la cosa mi ha provocato ma il grazie più sentito lo rivolgo a quelli che come dire sono rimasti così spettatori silenziosi a seguire quello che è stato un evento in verecondo. Sono molto contento che questo sia accaduto perché fra me e loro ce l'ha bisso. Buon weekend ci vediamo lunedì se volete sempre da queste parti.